Hola chicos, ma come vediamoci qua E la pellicola è o no, è o no E se è Squibby? No, Squibby non sta nella colla E la pellicola Libby è pellucola E se rinca lì E se rinca lì Podrà essere Poi credo che è la mona Abre questa prima regolazione Oh, che buona E sicura non si è finita Però no, no credo che sarà Esa sono una flora Parece che è Diferente Wow, che buonito vasito, verda? Si Wow Ok, ora che abbiamo il trago E già sappiamo che non è ripetita È una differenta, Yole Oh 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 Ok, ragazzi, questa è stata la nostra LOL di la colezione delle LOL del Surprise Magic, di la colezione delle LOL Surprise Movie Magic, si chiama Silverscreen, è una attiz perché qui sta il suo premio, c'è una flore. No olviden suscribirse al canal y regalarnos un like para más videos. Hasta la próxima. Bye, guys! Ciao!